Bentornati ragazzi, oggi vi porto un unboxing barra report Infatti, quando registro un video mi chiedo sempre le motivazioni per le quali registro quel video Cosa mi porta a registrarlo, in questa cosa è un unboxing Quindi mi chiedo, perché comprare da questo store magari rispetto a un altro store Conviene la cosa che ho comprato, vabbè bla 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 Le classiche domande, dogana o non dogana, insomma, queste cose qui Oggi infatti parliamo di questo pacco E qualcuno magari dalla scritta jd.com ha già capito più o meno di cosa stiamo parlando Questo è un pacco che proviene da joybuy.com E voi vi state chiedendo chi è joybuy.com Joybuy.com è praticamente il portale globale di jd.com E quindi la domanda diventa chi è jd.com Beh, jd.com è praticamente il secondo più grande commerce cinese Parliamo di una piattaforma davvero davvero grossa Praticamente un'Amazon della Cina, ma in Cina è molto più potente di Amazon Sta praticamente lì lì con Alibaba, quindi Taobao Mall Ma più che altro è davvero interessante la loro storia Magari vi lascio un post che ho scritto sul sito E magari vi lascio anche qualche collegamento extra Se vi interessa la loro storia Cioè praticamente questi sono partiti nel 1998 Con uno studio da 4 metri quadri Fino al 2007 sono stati un'aziendina, niente di che Nel 2007 però hanno deciso di fare un gran passo avanti Hanno deciso di eliminare la parte corrieri, logistica E di crearla praticamente una loro, quindi una proprietaria Questo gli ha permesso praticamente di perfezionare il processo produttivo Facevano consegne in un giorno in tutta la Cina Hanno costruito un sacco di magazzini E tuttora ragazzi sono all'avanguardia in un modo incredibile sulle consegne Pensate che effettuano consegne con droni, con robot autonomi Hanno dei tir a guida autonoma Stanno costruendo degli aeroporti solamente per i droni Insomma sono davvero all'avanguardia Forse è l'azienda leader in questo campo delle consegne E quindi insomma avete capito che non stiamo parlando di un'aziendina così che lascia il tempo che trova E questo portale globale, beh, non è ai stessi livelli del sito Madrid, di .com Però in futuro potremo vedere grandi novità Perché ok, adesso sono arrivati più o meno in Europa e in America Sono arrivati abbastanza normalmente come quasi uno store qualunque Però hanno già deciso di fare investimenti, soprattutto in Europa Per puntare anche qui a creare un corriere proprietario E quindi potremmo vederne davvero delle belle Questo pacco sfortunatamente non mi è stato consegnato da droni o robot a guida autonoma e cose del genere Mi è stato consegnato però con la Belgium Post Che ormai abbiamo iniziato a conoscere con Gearbest e Banggood Abbiamo visto che è una buona alternativa Perché Dogana non ce n'è e non ci sono dichiarazioni false o cose del genere C'è scritto 2,55 come prezzo dichiarato Consegna che quindi avviene alla fine in 10, massimo 20 giorni in genere Avviene tramite posta e il pacco come vedete è un bel pacco molto protetto Con del plurible dentro credo che ci sia altro plurible, un'altra protezione E qui dentro c'è un telefono, c'è lo Sharp Aquos S2 in versione 628 Quindi dai io direi di non perdere altro tempo Andiamo ad unboxare questo Sharp E ok ecco qui quindi il nostro pacchetto Abbiamo già visto che è sigillato alla grande Lo andiamo ad aprire Usiamo la forza bruta Bene Oh ci avevo preso dentro c'era altro plurible Alla grande Oh guardatelo qui Lo Sharp Aquos S2 Confezione dai carina Alla fine molto sobria, classica, semplicissima Con dietro ho scritto qualche caratteristica fondamentale Però vabbè sti cavoli andiamo a scartare sto Sharp Eccolo qua Ok quindi immagino si direi che è Guardate che carino in questa colorazione nera È davvero davvero molto elegante Vedete il fingerprint qua davanti Che poi tra l'altro è touch, non è un tasto E qua regà già si vede il notch che bello Accendiamolo così si vede molto molto meglio Ah il display sembra interessante Guardate i neri Bah onesti Ovviamente si vede che è LCD Però comunque sembra abbastanza buono Guardate qua Ovviamente regà è Sharp Cioè se non fanno bene i display loro non li fa nessuno Tra l'altro qua notate una cosa Non c'è l'italiano Perché non c'è l'italiano? Mettiamo l'inglese Perché praticamente questo telefono non è stato commercializzato in Europa E ok eccoci qui Notate subito il bellissimo notch E tra l'altro questo Anche gli angoli laterali tagliati in questo modo Un po' strano devo dirvi la verità Guardate l'effetto che fa Però dai alla fine non è male Perché comunque è un compattino col fingerprint Vedete alla fine riuscite a sbloccare con una mano E insomma sembra davvero interessante Fotocamera che potete dire è quello che vi pare regà Però in quella posizione secondo me è comoda Perché l'avete davanti a voi così E funziona bene ok Estaticamente magari non è la soluzione più carina Però a me va bene Carina Forse non avrei messo quegli spigoli qui tagliati Sono davvero davvero bruttarelli Però vabbè hanno deciso così E ok stavo cambiando inquadratura per tornare a questa Qua è successa una cosa ambigua Stavo spostando il cuscino E è uscito un telefono Cioè siamo sommersi dai telefoni in questa casa Vabbè Torniamo comunque allo Sharp Allora qua dentro trovate istruzioni e cose inutili Trovate poi una cover in confezione Questa è sicuramente una cosa gradita Perché non ci sono troppi accessori in commercio per questo Sharp Se li cercate comprate l'Italia Express Perché se hanno un telefono che è commercializzato in Cina Lì ne trovate un po' di più È una cover sì da 1 euro, 2 euro Però comunque è abbastanza gripposa Sentite un po' che rumore che fa Insomma dai È una cover buona per aumentare il grip Che però secondo me non ha così tanto senso Perché il telefono è già compattino Si riesce praticamente ad utilizzare con una mano Perché comunque il display non è troppo grande Inoltre troviamo il cavo Type-C Con questi gommini a coprire il tutto E il caricatore che è una figata Perché è davvero davvero piccolino Però è solamente a 5V di ampere Quindi ricarica semi-rapida E poi c'è l'incubo di ogni user Android Ovvero il cavo Type-C jack aux Eh già perché praticamente non c'è il jack Secondo me ci stava senza problemi Non è un telefono da 2 mm di spessore Eh vabbè Se ne volete sapere di più su questo Sharp Aquas S2 Aspettate qualche giorno Una settimana per la recensione Intanto posso darvi qualche piccola notizia Tra virgolette da scheda tecnica Ovvero questa è la versione 628 Che porta lo Snapdragon 660 Se invece volete risparmiare E lo pagate praticamente 130€ Vi prendete la versione con lo Snapdragon 630 Che comunque è un ottimo processore Consuma pochissimo Ha 4GB di RAM e 64GB di storage Però ecco 130€ per un telefono così Secondo me è davvero davvero Una buona spesa Perché comunque è un telefono abbastanza particolare Con un design carino La fotocamera sembra abbastanza prestante Quindi secondo me quello da 130€ è da tenere d'occhio Questo costa più sulle 200€ Per il resto abbiamo un Wi-Fi Dual Band Bluetooth 4.2 sfortunatamente Tutti i vari GPS e satelliti vari Non abbiamo la banda 20 Quindi questo sicuramente è un punto a sfavore E a bordo abbiamo Android Nougat Le fotocamere ragazzi È inutile leggere le scade tecniche Perché tanto si sa che poi vanno provate sul campo Vediamo magari se ci gira anche la Google Camera Di primo impatto mi viene da dire Che la fotocamera quella in alto Non è granché utile ma vediamo E che dire dai per tutto il resto ragazzi Ne parliamo nei prossimi video Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto Leggetevi gli articoli sul sito Che piano piano stanno iniziando ad aumentare A crescere E quindi dai ci vediamo prossimamente Ciao ciao